Troppo debole questo Rimini per competere al San Nicola con la capolista Bari. I pugliesi vincono 3-0, ma il passivo sarebbe potuto essere ben più pesante. I ragazzi di Selighini ora sono quintultimi insieme alla Salernitana, che martedì si affaccerà al Romeo Neri. Nel primo tempo si gioca ad una porta. Al quarto tiro cross di Guberti, provvidenziale da direzione in angolo di Rinaldi. Al quinto Camatava via Pagano, Guberti non riesce a superare gli ardi da due passi. Al dodicesimo traversone basso di Guberti, Camatà anticipa la camera, Rinaldi ribatte. Nello stesso minuto angolo di Donda, ranocchie di testa e l'estremo ospite devia oltre la traversa. Al diciannovesimo Camatà salta i difensori romagnoli come Birilli e calcia di piatto sinistro, agli ardi respinge. Al venticinquesimo cross di Gazzi, il franco angolano è libero di colpire di testa, ma l'impatto non è di più felici. Al trentunesimo punizione di Donda, stacco di Kutuzov, agli ardi si salva in angolo. Una manciata di secondi dopo, Gazzi mette al centro da sinistra e Kutuzov di testa sblocca il punteggio. Quarto centro stagionale per l'attaccante bielorusso. Al trentasettesimo l'unico sussulto del primo tempo dei romagnoli, traversone dalla tre quarti di Pagano e colpo di testa di Frara, che da ottima posizione non trova il bersaglio. Al quarantaduesimo Barreto per Camatà, che tenta il tocco da sotto, agli ardi risponde da fuoriclasse. Al quarantasettesimo Barreto scatta sul filo del fuorigioco, l'ex Palermo lo ferma in modo che Peruzzo giudica regolare. La ripresa inizia con i due Marchi in campo per Basce Docente. Al terzo buona iniziativa di Alessandro Marchi, Frara guadagna il fondo e mette in mezzo, Gilles ribatte proprio in zona Mattia Marchi, che si coordina per la semirovesciata. La sfera sorvola la traversa. Al sedicesimo punizione di Dondare, spinta dalla retroguardia romagnola, Guberti è appostato al limite dell'area, il suo destro non lascia scampo ad Agliardi, 2-0 per il Bari e quinto centro in campionato per l'ex Ascoli. Al diciannovesimo Caputo grazie letteralmente in Rimini, sparando alto da pochi metri con Agliardi in uscita disperata. Al trentottesimo Donda cala il tris, saltando Rinaldi e pennellando con il sinistro, un palonetto che scavalca Agliardi. Finisce 3-0 per la capolista, quarta sconfitta di fila per il Rimini, che piomba in piena zona play-out.